Sono due gli arresti per spaccio di droga eseguiti dai carabinieri nel ragusano a conclusione di controlli nel territorio. I militari hanno arrestato ieri a Shikli Ben Omer Radwan, tunisino di 29 anni. E' stato sorpreso mentre cedeva dello stupefacente ad una ragazza minorenne. In possesso dell'uomo anche 15 stecchette di hashish e la somma di 110 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo era già stato arrestato a novembre e è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. L'altro arresto a Ispica. Si tratta di Brian Vernuccio, 19 anni, disoccupato già noto dalle forze dell'ordine. Anche Vernuccio è stato sorpreso mentre cedeva a marijuana. Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso circa 15 grammi di droga. Al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari.